Serve conoscere il marketing per lavorare nel settore degli affitti brevi? Assolutamente no, perché ti appoggerai a delle OTA che offrono già dei servizi di pubblicizzazione degli annunci. Di conseguenza tu caricherai l'annuncio del tuo immobile sulle varie piattaforme, su Booking, Airbnb, Verbo, e la piattaforma stessa, grazie appunto al suo algoritmo, pubblicizzerà il tuo annuncio agli ospiti che cercano la località in cui è ubicato l'immobile stesso.